Eccoci qua, oggi è il 2 giugno, è la festa per italiani. Ancora parlerò solo nella mia lingua madre. Finalmente ho deciso di mettere fuori un simbolo, perché con popoli liberi, insomma, Trentino, Suttirol, Indipendente, ho deciso che l'è ora di fare un simbolo politico. Il simbolo politico è stato fatto, eccolo qua. Trentino, Suttirol, Indipendente, la spiegazione di quel TSI, Trentino, Suttirol, Indipendente. L'Aquila, che sta messa nel simbolo, l'è, perché parliamo della storia di questo popolo, di questa regione, di questo territorio. Il Tridente, per chi ha memoria, nel 1993 il Tridente fece ben 18 esposti alla magistratura contro la politica trentina, contro i vitalizi, contro tutte queste robe e tutte le varie tangenti che sta poi scoperta negli anni 1992-93. Perciò questo è un simbolo di moralità, di onestà. L'Aquila è un simbolo della nostra popolazione. L'Aquila che vola è la libertà. La libertà, cioè, popoli liberi, volare liberi. Però si è deciso finalmente di presentare un simbolo, no? Di depositare un simbolo e di forse diventare un movimento popolare. Ma per farlo diventare un movimento popolare, che vuole l'adesione dei giovani? Questo voglio che sia, e vuoi che sia, è un movimento giovane. Perché i giovani, gli estadi, lasciati fuori dalla politica, gli estadi abbandonati. Se noi fanno esame delle ultime elezioni europee, perché sostan silenzio, ho tasest per un po' di tempo. Bene, delle ultime elezioni europee l'esame l'è semplice da fare. Nessuna giornale, nessuna televisione ha detto che il 50% delle regioni autonome d'Italia non sono andati a votare. 42% di elettori, perciò il 58% in Sicilia non sono andati a votare. Il 58% in Sardegna non sono andati a votare. Il 51% in Val d'Aosta non sono andati a votare. Il 48% in Trentino-Altoadige non sono andati a votare, o Trentino-Suttirol. il 44% non sono andati a votare nel Friuli-Venezia-Giulia. Come mai che nelle regioni autonome il 50% della popolazione non va a votare? Non è mai successo prima. Non va a votare, è semplice. Bastava mettersi davanti ai seggi per capire chi erano gli elettori in blocco che andavano a votare. A parte la differenza del voto a Grillo, che è un voto di protesta, ma il blocco, il 40% di Renzi in Italia, equivale al 22% degli elettori di tutta Italia. Attenzione, non ci facciamo ingannare, perché il totale degli elettori, in questo momento il 40% di Renzi, sarebbe il 22%. Se noi facciamo un'analisi del blocco del voto, a parte i 70 euro che tanti si fanno bindolare, da uno che genpromette 70 euro un busta paga, che dopo i glasatolti con le trattenute e con gli assegni familiari, perché forse non si è accorti chi è ridotto al 50% gli assegni familiari, perciò i glasatolti 20 euro per fiolo un busta. Allora, perché questa l'è la Repubblica, Ancoi l'è la festa, il 2 giugno, della Repubblica delle Banane, cioè mi Ancoi sono chi in officina, perché per de principio vago a lavorare, l'è un lutto per la mia regione, non è una festa della Repubblica, perché essere in una Repubblica delle Banane, dove le regole, l'ultima cosa che è, l'è meglio che noi tornando in Docheeren o niente da soli. Ecco perché nasce Trentino su Tirol indipendente, sapendo che è una Repubblica dove le leggi le fa rispettare solo nella nostra regione, che noi italiani non c'entriamo proprio niente, io non sono italiani, va bene? E allora, chi che si sente italiano, il Trentino che si sente italiano, Borghetto, la Stanga, non la Gheppu, basta che il Vaganzò, che non abbiamo bisogno, italiani, che non abbiamo assai, che non abbiamo assai di essere derubati da una nazione del genere, perché è un furto perpetuo, perché quando uno va a lavorare, e il toglie 50 euro l'ora, del so che resta, del sdotto, del sdotto mili, del sdotto euro che resta del 50, perciò anche quando che voi nel giro dici, oh che carco è l'artesana, ma toglie 60 euro l'ora, no, toglie 60 euro, toglie 20 euro, perché quando non ti è che basta a questa Repubblica delle Banane, se non te lo sai, è il costo di gestione dell'azienda. Allora, se si vuole fare un nuovo movimento politico, bisogna narco le idee, perciò quando che uno ha intenzione di fare un movimento politico, non deve più parlare degli altri, ma degli altri partiti, di tutta la porcheria che gli ha fatto, che gli sta facendo anche con i vitalizi, che non si tira zona lì a morire, che avevano l'azienda a casa, perché è tutti senza lavoro fra un po', perché il caro Fiorente Trentino, le aziende le sta chiudendo, le sta cerando, e ragazzi, allora quando si parte, si fa un nuovo movimento politico, bisogna decidere cosa si ha in testa di fare, perché protestare è facile, no? Protestare è facile? No. Trentino, su Tirol, indipendente, partirà con le idee chiare, ma molto chiare, e per cosa? Per salvar la nostra regione, perché mi voglio ai fioi che restano in eredità, una regione che funziona, e chi trova posti di lavoro, non chiedere chi scampa tutti adesso, bisogna dare il lavoro ai nostri fioi, ricordavelo, e se noi, la nostra generazione, che è responsabile di una situazione del genere, perché abbiamo sempre votato, dei incompetenti, delle persone impreparate, come che avviene adesso, in tutti i consigli di amministrazione, in tutti i partiti, e allora è l'ora di svegliarsi, cari genitori, cari padri e famiglia, se vuoi dare il futuro ai fioi, dovete decidere di cambiare anche, perché solo andare a votare, perché, oh Dio, sto chilo è il colore che difende la mia pensione, è massa facile, ti con la tua pensione, devi fare il lavoro ai tuoi fioi, e ai nostri eredi, a tutti quanti, e allora dovete aver zero i occhi, dovete o pararvi a tutti qua, o deciderne cosa fare, ma convinti di quel che viene in testa di fare, e allora noi partiamo sicuramente con un progetto politico che è serio, e allora bisogna smentegarsi di appartenenze politiche, i colori, e ragionare su cosa che non è un progetto per salvare la nostra regione, e se no, è inutile, stiamo chiedendo e piangendo ad oggi, perché se fra sei mesi, o fra nana è saltatuta a sciopare il sistema, la colpa è nostra, la mia generazione, e la vostra, cari pensionati, e tutti sfigati, che se ne ha di votare l'altro dia, il paiazzo di turno, perché quando io ne tolgo per le balle, bisogna spiegarlo alla gente, non guardare la televisione, io dico che è la ripresa, le tre anni, chi dice che vede il bus, zonfonte alla galleria, che vede la luce, io non vedo luce, zonfonte alla galleria, perché che progetti seri, non che ne, vedo solo che Rossi, li è costretti a tagliare, a destra, a sinistra, perché i soldi nel cassetto, gli è dire che finisse la provincia autonoma di Trent, e allora, signori, che vuoi progetti, mi poto dirvi, che saranno cinque punti fondamentali, nel progetto di Trentino, su Tirol indipendente, uno è una riforma regionale, totale, totale, una riforma regionale, che comprende una riforma della politica, e si parla anche di autodeterminazione, perché una popolazione in democrazia può decidere e conquistare, ricordarvelo, che ha delle leggi internazionali che ne lo permette, che sarà tutte le banche e tutta l'Italia che non vuole molarne, perché dice, ah, sta bene su nel Tirolo, il Trentino, Bolzani, sta tutti bene, non è vero, le aziende le dovrebbero essere tutte anche qua, e allora apriamo gli occhi, la seconda sicuramente è una riforma che bisogna fare sul fisco, perché non può un'azienda lavorare, portare a casa il 20% quando la va bene di tutto quel che l'ha lavorato, le comero barga, i soldi, è uno che lavora, non è accettabile, la terza sicuramente è una riforma del mondo del lavoro, ma totale, abbandonando da quel che ha combinato i sindacati, perché i sindacati li ha rovinati, i lavoratori, signori, dal giorno chi ha toglie le gabbie salariali, gli ha tirato via le gabbie salariali, le sta la rovina di i lavoratori delle Alpi, perché mi ritengo che l'arco alpino sia diverso dal resto d'Italia, anche dal resto d'Europa, e allora avendo i problemi di costi superiori agli altri, va rivisto allora il discorso di gabbie salariali, anche nel discorso aziendale, perché costruire in cappanone, gestire un'azienda sulle Alpi costa di più che nel resto d'Italia, e non è corretto allora che pagante le tasse come gli altri, che avendo delle spese come gli altri, no, dovrebbero essere agevolate queste cose, è il rapporto del lavoro con i giovani, non c'è nessuna programmazione da parte dell'università, della scuola, l'inserimento nel mondo del lavoro, ma scherziamo, qua il lavoro non è solo quello sedentario, ricordatevi che tutto quel che sto vedendo a Trento, che sta parlando nel festival dell'economia, perché Trento è la patria a livello internazionale dell'economia, che la ne costa un patrimonio dei soldi e rientro non il Gavèn, perché non ne torna niente da questo festival dell'economia, dove chi è talmente intelligente, tutti i più preparati economisti del mondo che ha parlato a Trento, nessuno aveva previsto neanche la crisi economica, robe che mi vende a ridere e nessuno ve lo domanda, adesso chi si vergogna che non ne ha previsto niente, e deve vergognarsi anche perché non deve capire che forse il mondo delle mani, il lavoro manuale, se sparisse, sparisse tutto il resto, non può essere tutto il lavoro sedentario a tutti sentati i zoo, signori, calma, perché bisogna capire che il mondo del lavoro l'è ampio, la tutela ambientale fa parte del nostro progetto sicuramente, ma la riforma del mondo del lavoro e il fiscale l'è determinante e questo può essere fatto anche per il rapporto con le imprese, non possiamo restare con l'Europa, con le regole dell'Europa, perché le nostre piccole aziende le perderanno tutte le gare d'appalto e allora va a fare una riforma totale, ma non può dire, non può dire, il popolo con l'autodeterminazione decide con chi star e se ne va bene sta in quell'Europa, l'Euro si prende in cielo, ma si deciderà dopo, ma l'autodeterminazione è determinante, signori, dobbiamo salvare la nostra regione, dobbiamo salvare le nostre famiglie, il mondo del lavoro e questo si fa solo con la forza delle idee e con essere decisi a farlo e non a continuare a andare a votare solo per convenienza, perché quel 52% del Trantino su Tirol che andava a votare bastava mettersi davanti al seggio e i signori le soli addetti ai lavori o quelli ammanicati o il pensionato statale o anche provinciale che ha paura di perdere dolire, no, no, decidiamoci, dobbiamo cambiare, scusami se mi sono un po' alterato, mancò la festa della Repubblica delle Banane e mi sono che in un'officina sono mia laurea perché l'è giusto che mi non festeggia con questi bananoni. Arrivederci e buon divertimento.